ma facciamo una ripresa qui per la fiera gli animali il mangiare il trattore questi sono interessanti gli strumenti di una volta questa è come mi sembrava la padella quella che usavete per fare le castagne questa sembrava la padella quella che facevo anche con le castagne ma mi sbaglio io mi sembrava la stadella ce l'ho anch'io sempre strumenti come una volta è tutta roba che la gente ci ha lavorato la vita ci ho lavorato anch'io ma è dello stand lei? no no ah pensavo si lo vede venga va venga va lì c'è una furca lunga e una orca quello si chiamava furchino per filare il posto del pieno si cagliava sul caglio e sappina poi c'è cosa del piccone ti attrezzi come una volta dicevano miniera c'era il canarino nella canaria di rabbia perché se c'era il gas dicevano il canarino lo sentiva prima ecco qua trattori questo c'è anche i cingoli e quindi basta mettere il nome oggi quale c'ha ammazzato ma è molto interessante non è più che la soddisfazione non è più difficile non si tranne da qui non si tranne da qui non si tranne non si tranne non si tranne Ah, o si sente male che sta così? Senti, senti, risponde, senti. Senti, risponde, senti. Risponde. Senti, 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 risponde. Senti, risponde, senti, risponde. Io ho fatto uh uh. Risponde, guarda. Senti. Senti, risponde, senti, risponde. Senti, risponde. Guarda, queste sono di nanina, guarda. Queste sono di nanina. Senti, risponde, risponde. Senti, risponde. Se prender via, porta via tutto. Questo via è ancora più perioloso di quell'altro, con queste cornavie, perioloso. Giondi, poi Scimonto faccio un giro, vai per la fiera. Da bello il piccione texano, questo vi guarda, questo è il piccione texano, vedelo lì marrone. Oh, te cosa ti prende, dormi o ti canti male? E dormi, questi sono i fagiani mi pare, ha detto, ma... Io sono passato, in reale, non lo sapeva. Yeah, la cosa ti prende. L'asciolo, la cosa chi non so è. La scatia, ma è mapperti, questo è un po' di grande, ma è mi pare. È l'amore, sono. Ma è un po' di grande, è un po' di grande, è un po' di grande, è un po' di grande. Come si siete mesi, ma è un po' di grande, è un po' di grande, è un po' di grande, è un po' di grande. oh mamma è lì all'accappatoio ma dalle tortorine diamantine ma dalle quagliette ma con me sono tutti addormentati sentivi oh da bene sti colorati così io quali quali sono hanno litigato un pozzo 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 chi non ci sente cosa si chiama non è qui